Un boato fortissimo e poi l'assalto che cronometro alla mano è durato una manciata di minuti. La banda del Bancomat è tornata a colpire nel veneziano e stavolta ad essere preso di mira è stato lo sportello della banca di Cividale in Borgo Sant'Agnese. Il colpo è andato a segno alle 4 della scorsa notte quando la deflagrazione prodotta dall'esplosivo ha buttato giù dal letto i residenti della zona che hanno chiamato i carabinieri. I banditi sono stati rapidissimi, il tempo di arraffare il maggior quantitativo di denaro possibile poi via, veloci, a bordo di un'auto di cui si sono perse le tracce. Immediatamente è stato fatto scattare il dispositivo delle ricerche che si sono estese nelle zone fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di novità fino ad ora non ne sono arrivate. I militari della compagnia di Portogruaro che conducono le indagini hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare se vi siano elementi utili all'identificazione della banda. Resta da quantificare il bottino recuperato all'interno della cassa Bancomat che, visto l'approssimarsi del weekend, potrebbe essere di una certa consistenza.